E' vietato abbandonare rifiuti per strada. I trasgressori saranno sanzionati con multe da 500 euro. Questo è scritto da Nocera Ricicla, centro di raccolta differenziato per Nocera Inferiore. Avete letto bene. E' vietato abbandonare rifiuti. E' così vietato che davanti al centro di raccolta vedete che cosa c'è. E non basta l'abbandono dei rifiuti, ma i rifiuti vengono anche incendiati, creando esalazioni nocive. Mi chiedo, io non voglio indicare nessuno con il dito, non voglio dire Tizio o Caio è colpevole, ma mi chiedo, la telecamera funziona? Se funziona, certamente ci sono le immagini di coloro che vengono a sversare e di coloro che ancora più gravemente vengono ad incendiare l'immondizia. Perché abbandonare è già un reato, ma poi incendiare l'immondizia e creando esalazioni nocive è un delitto. E allora c'è possibilità di prendere questi delinquenti e assicurarli alla giustizia o almeno fargli un verbale, ma che sia di quelli che veramente si ricordino per tutta la vita? Ecco, questa è la situazione che abbiamo a fosse imperatore. C'è altro da dire? Io credo proprio di no, bastano le immagini.